Gli assalti dei popoli gallici colgono di sorpresa Roma. Nella città, memore dell'invasione di Brenno, si scatena il panico che costringe l'urbe ad arruolare tre eserciti, il primo è inviato in Sardegna per sorvegliare i movimenti cartaginesi, il secondo resterà a protezione di Roma ed il terzo si sposta verso Rimini a controllare gli invasori. Quest'ultimi muovono verso l'Etruria, provocando devastazioni e danni. A quel punto l'esercito in Sardegna si sposta a Pisa e quello di stanza a Rimini continua a tallonare i nemici, con una manovra a Tenaglia i due consoli riescono, dopo un sanguinoso scontro, ad uccidere 40.000 nemici e catturare 10.000 prigionieri. Roma inizia quindi a recuperare terreno nel settentrione e, nel 222 a.C., arriva fino all'odierna Milano e completa il controllo dell'area Cisalpina, una zona che vedrà protagonista Annibale.